E' che non a tutti capita di incontrare un interprete come te. Certo anche tu non eri male, anche se facevi di tutto per nasconderlo con la gravatta gialla. L'avevo presa in aeroporto all'ultimo, la commessa mi aveva assicurato che era elegantissima. La commessa dell'anno ti rifila quello proprio, ti fa spendere una fortuna e ti spende la cassa. Che hai fatto? Pietro non ho messo il filtro, rimani al telefono, devo rimettere sul caffè. Ok. Mi senti? Sono pochi metri. C'era fai, c'era fai, c'era fai. Vai, 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 vai. Oddio, cazzo. 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 Grazie.